Per i trovati ad Angoli adesso parliamo di teatro, sono in compagnia di Alfredo Caprani, buonasera, della compagnia teatrale Città di Como, perché giorno 6 inizia uno spettacolo che si intitola, mi corregga, un tec per quattro arvecci, pronuncia impeccabile, ho studiato Benissimo, i ricavati di questo spettacolo, ricordiamolo subito, poi lo ricorderemo dopo, andranno in favore dell'Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare di Como, giusto? Perfetto, esatto, quindi giovedì alle ore 21, verso il teatro San Guanella, perché prima era Don Guanella, adesso è San Guanella, in Vieto Maso Grossi 18, dove c'è un bellissimo parcheggio, facile e comodo da raggiungere, eccetera, si viene per divertirsi, vedere un ottimo spettacolo teatrale e soprattutto fare del bene. Esatto, che è la cosa anche più importante. Entriamo nello specifico dello spettacolo, di che si tratta? È tutto comunque ambientato su una panchina? Sì, lo spettacolo è un test per quattro versi, tratta la tematica della terza età, con tutte le problematiche che esistono, che tutti bene o male conosciamo direttamente anche, però con la differenza che si ride dall'inizio alla fine, pur trattando tematiche molto importanti. Questo spettacolo l'abbiamo, è un paio d'anni che lo portiamo in giro, in Lombardia. Qual è la vicenda, più o meno? Quali sono le storie che si incrociano? Le storie che si incrociano sono questi quattro anziani che si trovano su questa panchina e naturalmente esternano tutte le loro problematiche. e poi c'è uno dei quattro che la famiglia, per proprio interesse, eccetera, lo vede inutile e lo portano all'ospizio. E' lì che questi quattro anziani passivi da tempo su questa panchina, eccetera, decidono di ribellarsi in poche parole. A questo destino. E quindi, però, non voglio raccontare più di tanto, ma si ribellano e creano una vita nuova e si rigenerano praticamente ed oltre i 70 anni ritrovano ancora gli entusiasmi, la voglia di vivere e l'interesse che avevano da giovani, che si è poi, questo interesse, assopito nella bulia della casa, della famiglia. Ecco, e succedono poi delle situazioni abbastanza, sì, tessilaranti, divertenti, ecco. Tornando al tema della terzietà, al problema della terzietà, viene affrontato col sorriso, però è un problema reale comunque. Certo, è un problema reale che purtroppo fra un po' dovevo vivere anch'io. però, ecco, proprio dà uno stimolo per potersi rigenerare, come dicevo. E questi quattro anziani ritrovano, tant'è vero che questo spettacolo ha avuto talmente successo perché, vorrei dire, appunto a Milano abbiamo fatto due concorsi, abbiamo partecipato a due concorsi e abbiamo vinto due primi premi come spettacolo più gradito dal pubblico. Quindi abbiamo vinto il Be Cooking Door e un'altra rassegna del Teatro Santo Domingo. E non a Santo Domingo, Teatro Santo Domingo. E proprio perché ha riconosciuto un po' tutte queste cose delle quali stiamo parlando. Perché affronta con leggerezza un tema che comunque è attuale. E quindi, considerando questo successo, diciamo, ho scritto anche un seguito. Infatti lo spettacolo nuovo che stiamo appunto provando e presenteremo tra un mese è il seguito di questi quattro anziani che sono partiti dalle loro famiglie e poi hanno una confidenza. Però così poi rischiamo di rovinarci invece al finale di questo che viene a parte giovedì. Quindi per il momento lasciamo un po' di mistero. Invece, come mai? Voi vi occupate di teatro di prosa ma in questo caso la scelta è quella di fare questa rappresentazione in dialetto. Come mai? Sono anni che noi facciamo anche rappresentazioni teatrali in vernacolo e dialettali. E' una questione di mercato. Siccome noi ci lavoriamo con il teatro e quindi ogni anno proponiamo uno spettacolo in lingua ed uno spettacolo dialettale. E dialettale sono parecchi anni che lo facciamo. e vediamo che in questo periodo più si va avanti più c'è richiesta. Anche perché nella crisi che sentiamo naturalmente anche nel nostro settore tante compagnie propongono tutti gli spettacoli che sono sempre gli stessi più o meno. Comunque roba già vista. In lingua eccetera. E c'è una lotta fratricida. Mentre il dialettale è ancora uno spettacolo. Se è proposto, è un settore che si è proposto a un certo livello con i ritmi, con gli interessi, con dei testi validi eccetera si può trovare ancora un po' di spazio. E' un settore di nicchia che però evidentemente fa piacere ritrovare. Purtroppo non è seguitissimo dai giovani. Probabilmente anche perché i giovani hanno un po' perso il dialetto. Non l'hanno nemmeno affrontato, non l'hanno nemmeno imparato se vogliamo. Però ecco con il dialettale, noi prima cosa ci si diverte molto tra di noi perché naturalmente sulla scena si trasmette sempre ciò che si prova e quando ci si diverte e ci divertiamo noi naturalmente di conseguenza si diverte anche il pubblico. E vediamo che abbiamo delle richieste, parecchie richieste a livello lombardo. Poi i testi, finora quelli dialettali, li ho sempre sceneggiati io quindi posso lavorare su misura degli attori che ho a disposizione evidenziando determinate caratteristiche e abbiamo questi personaggi come per esempio adesso... Diciamo il disegnato addosso ai protagonisti. Esatto, io in questi ultimi anni ho trovato in Giovanna Corti una protagonista che ha un personaggio, una caratterizzazione veramente esilarante e sto puntando un po' tutto su di lei e naturalmente poi gli altri comprimari eccetera. E sinceramente si lavoricchia, ecco non possiamo lamentarci. Cosa riserva poi il resto della stagione? Questo spettacolo, abbiamo detto il suo seguito, ci sono altri progetti in cantiere? Sì, adesso stiamo allestendo Arlecchino Servitore di Due Padroni, di Goldoni che è la quarta edizione da quando ho cominciato a fare teatro io che stiamo facendo e portiamo in giro ancora la locandiera di Goldoni. È un classico però. Sì, sono classici e poi adatti a qualsiasi pubblico perché noi lavoriamo parecchio d'estate lavoriamo per molti comuni all'aperto eccetera e sono due spettacoli veramente coinvolgenti sia per i costumi, sia per la trama e appunto adatto per ogni genere di pubblico. Anche perché la locandiera poi è tutto sommato è uno spettacolo che si studia anche a scuola quindi è adatto anche ai giovani e ai studenti. Esatto, la locandiera poi è molto bella abbiamo dei costumi molto molto interessanti fatti da Claudio e Cedri e questo appunto dà poi permesso anche di farlo nelle ville, nelle piazze, nelle corti eccetera e quindi si sta facendo un po' tutto questo. E abbiniamo il dialettale tant'è vero che abbiamo fatto un'edizione perché ci sono ormai diciamo delle località che puntano anche loro molto sul dialetto e abbiamo fatto anche la locandiera in dialetto cioè abbiamo trascritto naturalmente riportando un po' tutto perché le vicende si svolgono a Venezia dell'originale guentoniano e noi l'abbiamo spostato sul lago di Cobo abbiamo fatto la locandiera e avventando la nuova locanda della zona eccetera e c'è gente, anzi parecchi che hanno visto sia un'edizione che l'altra si sono divertiti molto di più sulla locandiera in dialetto ecco perché il dialetto permette anche di scherzare un po' di più insomma è tutto diverso una caratterizzazione magari anche un po' più sopra le righe però diverte ecco Tornando allo spettacolo ripetiamo il titolo un tecce per quattro vecce mi piace perché così faccio un po' di pratica con il dialetto anch'io e sarà un unico spettacolo quindi l'occasione per divertirsi e per contribuire alla lotta contro la distrofia muscolare sarà solo per giovedì o ci saranno anche altre date? Sì, sarà solo per giovedì, per ora perché abbiamo preso contatto con l'ente locale della distrofia muscolare e si vuol fare un tentativo per aumentare qualche risorsa naturalmente se ci sarà pubblico se andrà bene e potremo aiutare in un modo consistente l'associazione si potrà ripetere l'esperimento diciamo è un test quindi speriamo che vada è un test è un test perché è la prima volta che facciamo con loro un'attività del genere vedremo come andrà a finire benissimo allora ricordiamolo giovedì 6 febbraio a che ora? alle 21 al teatro San Guanella esatto e di Como chiaramente un teccio per Quattarvec con la regia di Alfredo Caprani no, poi anche interpreti ci sono anche io ma anche sì, qui un po' alla Veneta e faccio tutto me diciamo l'ho scritto ci recito e ho fatto che la decina se la canta e se la suona insomma ringraziamo allora Alfredo Caprani della compagnia teatrale città di Como per essere stato con noi io vi ringrazio diamo adesso la linea al TG e ci vediamo domani